E adesso passiamo ad Andrea dove un nuovo angiografo da ieri è in dotazione presso l'unità operativa di cardiologia e una nuova TAC in dotazione presso l'unità operativa di radiologia dell'ospedale Bonomo. Sono stati tenuti a battesimo dai vertici della regione Puglia, il servizio di Alba Di Palo. Stiamo in vista della costruzione del nuovo ospedale che sarà verosimilmente anche sede di diversi insegnamenti universitari e quindi potrà essere definito il policlinico della BAT. Stiamo ovviamente facendo crescere l'ospedale tributario, cioè quello che deve trasferire assieme a quello di Barletta, alla sanità generale della BAT che deve trasferire le eccellenze in un NAB di secondo livello, di grande profilo. Le parole del presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, arrivano nel giorno in cui il Bonomo di Andrea si arricchisce di un nuovo angiografo a pavimento e di un ATAC di ultima generazione che consente di effettuare esami in tempi molto rapidi. L'angiografo si trova nell'unità di cardiologia e permette studi coronarici, analisi vascolari, studi ventricolari anche a bordo tavolo, con la visualizzazione ottimizzata degli stent e sovrapposizione immagini 3D. L'apparecchiatura è stata noleggiata per 84 mesi con un costo complessivo di quasi 675 mila euro a cui si sommano 187 mila euro di lavori di installazione. L'ATAC invece è a disposizione della radiologia e permette di ridurre le dosi di mezzi di contrasto ai pazienti con un impatto sulla radioprotezione molto positivo, strumentazioni che si affiancano alle eccellenze sanitarie. Gli ospedali non sono fatti da mura o solo da attrezzature ma sono fatti da persone quindi stiamo completando concorsi a tamburo battente, stiamo cercando di contendere le migliori competenze a tutti gli altri ospedali extra regionali. Con la costruzione del nuovo ospedale il Bonomo avrà una funzione territoriale che può essere implementata sin da oggi e le nuove apparecchiature ne sono la conferma. Questi due strumenti daranno la possibilità all'ospedale di Andria di conferire maggiore sicurezza nel percorso stroke, quindi nel percorso per acuti e quindi di tutti i pazienti che avranno bisogno di patologie, di cure nelle patologie particolari come l'ictus e come anche l'infarto e come tutte anche le patologie che sono ovviamente inquadrabili nell'ambito dell'emodinamica e della neuroradiologia interventistica.